Salve a tutti fratelli e sorelle, Dio vi benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e Ave Maria. Benvenuti nel nuovo appuntamento di messaggi e profezie di oggi. Oggi andremo a leggere un nuovo messaggio che arriva da Cavarzere, che si trova nel nord Italia, ed è del 28 di marzo del 2019, scusate, del 2020, quindi è uno degli ultimi messaggi. Andiamo proprio a leggerlo e farvelo vedere. Eccolo qua, 28 marzo 2020, fratelli miei, quello che state passando è una cosa brutta, ma verrà il sole, la luce che vi irradia tutti, abbiate pazienza. Le persone che vi vogliono bene, vi amano, chiedono di restare in casa, perché io sono in casa assieme a voi, e non vi abbandono, fratelli miei. Tante persone gridano, Gesù, cosa ci ha fatto? Dio, cosa ci ha fatto? No, chi sta distruggendo un'opera di Dio è il demonio, è un castigo, è un castigo che passerà, la pace arriverà. Ma bisogna lavorare, bisogna essere attivi e dire, io amo Dio, perché Dio vi ama e per voi vuole solo il bene. Perché tutto il male, vada via, occorre con coscienza pensare chi è Dio, chi è il padre creatore di tutto l'universo. Occorre mettere Dio al centro e pregare che questa tragedia finisca. Quindi vedete da questo bellissimo messaggio che arriva da Cavarzese, che si trova nel nord Italia, in questa apparizione presunta, dice in questo messaggio presunto, chiaramente dice, ecco, quello che stiamo passando è una cosa brutta, ma tutto passerà. Bisogna avere pazienza, perché bisogna pregare, cari fratelli e sorelle, questo lo dice alla fine, bisogna pregare che questa tragedia finisca, bisogna pregare sempre, incessantemente, e dice ancora, le persone che vi vogliono bene, vi amano, chiedono di restare in casa, perché io sono in casa insieme a voi, ci sta dicendo invece me, ubbiditi a quello che dicono, diciamo, restiamo in casa, perché nella casa c'è la chiesa domestica, nel cenacolo di prechiera, perché io sto insieme a voi se voi pregate. Questo ci sta facendo capire la Vergine Maria, e non solo. Tante persone, no, gridano, perché Gesù ci ha fatto questo? Questo non è opera di Dio, qui dice, no, dice, chi sta distruggendo, chi sta distruggendo l'opera di Dio è il demonio, è un castigo, è un castigo che passerà, dice, cioè non è che, ecco, quello dice che è un castigo che passerà, però bisogna pregare, cari fratelli, lo dice proprio chiaramente il messaggio, vedete, Dio che cosa ci ha fatto? Chi sta distruggendo l'opera di Dio è il demonio, è un castigo, è un castigo che passerà, bisogna essere attivi e dire io amo Dio e pregare, fratelli e sorelle, lo dice proprio chiaramente, bisogna pregare, tanto è vero che bisogna mettere Dio al centro di tutto, della nostra vita, e pregare che questa tragedia finisca. Questo è il messaggio che arriva da Cavarzese, è un messaggio presunto chiaramente, però ci fa capire che bisogna stare in casa, pregare come dice in acoli di preghiera, e lodare il Dio dalla mattina alla sera, e pregare, 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 non c'è altra soluzione, bisogna pregare molto, e questo castigo passerà se noi pregheremo con tutto il cuore, il Signore Dio, Padre Onnipotente. Dio vi benedica, sia lodato il nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, l'ode e gloria a Cristo e Ave Maria.